Bella a tutti raga, qui è Miro Ed eccoci qua in questo nuovo video che sto registrando al volo Dopo che è finita la partita tra Porto e Roma Partita dei Champions League Che ha visto il Porto vincere contro la Roma Allora, è penso uno dei pochi video Su questo canale in cui andrò a parlare di un argomento che non riguarda In presa diretta al Cagliari Lo sto facendo perché mi preme particolarmente farlo per quello che sto vedendo in giro Allora, partiamo dal presupposto che la Roma è stata eliminata in una maniera veramente vergognosa Perché secondo me la partita, e lo dico praticamente da antiromanista senza problemi La partita è stata regalata al Porto In una maniera veramente indecente Perché oltre a esserci Lì Florenzi ha fatto una cazzata perché ha trattenuto Sapoteva di vita Però oltre a esserci il fuorigioco Quello è un rigore veramente troppo, troppo generoso Poteva tranquillamente non essere dato E secondo me non era rigore nemmeno quello su Schick Quindi secondo me Doveva andarlo a rivedere Perché queste azioni secondo me Che devono essere riviste Ok? Poi lì decidi se dare o non dare il rigore Però come minimo devi rivederle Tutte e due però Non solo quelle del Porto Anche quella della Roma Ma tralasciando l'inculata che gli hanno fatto Che gli hanno dato alla Roma Io voglio parlare del fatto Che temo che questa possa scatenare un altro caos E io mi sono rotto il cazzo Ve lo dico sinceramente Tifosi romanisti Spero non ve la prendiate Per quelli che guarderanno questo video Mi sono rotto il cazzo Che per ogni torto che subite voi Se scatenar panico Se scatenar panico Mi ricordo Quando che era Roma-Inter Che non era stato dato un rigore su Zaniolo Che cazzo era? E' successo il finimondo Errore Incommentabile Stronzate Cazzi e mazzi Prese di responsabilità Cose allucinanti Ma non me la prendo solo con voi Me la prendo anche per esempio Con quelli dell'Inter Che purelli incettano un cazzo Perché hanno ragione pure loro Nella partita contro la Fiorentina Abisso ad B Addirittura non arbiterà più l'Inter Fino a fine anno Io trovo indecente il fatto che In questo campionato In questo calcio Esistano due pesi e due misure Perché a noi l'anno scorso Ci hanno tolto di tutto e di più Ci hanno tolto di tutto e di più L'abbiamo detto ai 4-20 Noi non ci si è inculato nessuno Perché? Perché siamo il Cagliari Perché siamo il Cagliari Allora Volevo fare una bella cosa Togliamo sto cazzo di VAR Togliamolo Togliamolo E' meglio Campiamo meglio Campiamo meglio Perché io apprezzo Tolero di più l'errore umano Se tu sbagli Ma non c'hai modo Di rimediare l'errore E' meglio Fai più bella figura Piuttosto che Fa una figura di merda col VAR Io amo il VAR Perché secondo me E' uno strumento utilissimo Il problema è che Chi lo può usare Chi ha questo strumento Nella metà delle volte Lo adopera in maniera sbagliata Fa qualche cappellata E questo aumenta Le polemiche Aumenta tutto il giramento Di coglioni Che possono avere In primis La squadra che comunque riceve La scelta sbagliata E Il secondo Noi Perché io trovo inaccettabile Che se la Roma Arsa il culo Arsa la voce Presa di posizione Da parte dell'AIA Scuse pubbliche Cazzi e mazzi Se alza la voce l'Inter Addirittura Abisso non arbiterà più A fine anno Fino a fine anno l'Inter Cose del genere Alziamo la voce noi Non succede un cazzo Non succede un cazzo E fa schifo questa cosa Dell'avere due pesi E due misure Fa veramente schifo Perché a questo punto Il campionato Fatelo nelle Sette Con le sette sorelle D'Italia Quante cazzo so E basta Campionato a Sette Otto squadre Perché se tanto Quell'arte non contano un cazzo È inutile che giochiamo A me sta cosa Mi dà veramente Ai nervi Anzi Come si dice qua a Roma Mi fa un toppà A me sta cosa Mi fa un toppà Perché non è giusto Ma non è giusto Nei confronti Di tutti Di tutte quelle squadre Che non hanno una cassa Di risonanza Così grande È veramente Ingiusto Io capisco I tifosi romanisti Adesso Ma a noi Per queste situazioni Ci stiamo a passare Dall'anno scorso A noi Peretto L'anno scorso Non si sa Quanti punti Ci ha inculato Mazzolini Contro la Roma Ci ha dato Un'espulsione Di troppo Un'altra Inventata Perché deve Far lo show Ogni volta Mazzolini È sempre così Perché voi Sì e noi No È ingiusto È ingiusto Io spero Che i tifosi romanisti Non si incazzino Per questo video E spero Che capiscano Il messaggio Che voglio Portare Che non è Un messaggio È Sti cazzi Che alla Roma Hanno fatto così No perché Non è giusto Nemmeno quello Ma io voglio Mo lasciando perdere Che questa era Champions Io sto a parlare Del campionato L'oggetto del video È il VAR E le conseguenze Delle cappellate Del VAR Io voglio Che non vengano Usati due pesi E due misure Io voglio che Se una scelta Con il VAR Viene considerata Errata Nel post partita Vogliono che Vengano prese Conseguenze Per tutti A prescindere Che tu Ti chiami Juve Milan Inter Roma O Cagliari Devono essere prese Delle soluzioni Sempre Sempre E soprattutto Soprattutto Bisogna Punire Gli arbitri Io Non so Da quanto tempo Che sto a dire Una cosa del genere Bisogna dargli Delle sanzioni Che non vadano Oltre Il semplice Non arbitrare Perché è troppo Leggero Poi Secondo me Deve essere Accompagnato Da una sanzione Pecuniaria Devono Scucili Sordi Per le Cazzate Che fanno Devono Scucili Sordi Comunque Il video Finisce qui Spero che voi Tifosi E non Tifosi Del Cagliari O di altre squadre Quello che volete Abbiate recepito Il messaggio Perché quella È la cosa Più importante Spero che Il video Vi sia piaciuto E niente Ragazzi Detto questo Noi ci becchiamo In un prossimo video Bella Ciao